Ciao ragazzi, venite in Val di Fiemme, sperando che sia il tempo più bello di qua e che ci sia tanto sole. Ciao ragazzi, siete pronti per la Val di Fiemme, venite che siamo carichi, saluto. Saluti dalla squadra italiana Arakow, speriamo per un buon evento in Val di Fiemme, vi aspettiamo tanti e con buoni risultati. Saluti, Saluti, Vecche, 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 venite in Val di Fiemme, vi aspettiamo a vi aspettiamo a vi aspettiamo in Val di Fiemme.